signori adesso voglio chiedervi una cosa tra qualche giorno è il compleanno di un mio caro amico nonché forse futuro cognato lui tiene tanto al progetto radici popolari vorrei se voi siete con me noi ci fermiamo e diciamo tanti auguri Mattia ci proviamo? ci proviamo o no? si prova uno Mattia dal Belmonte uno, due, tre tanti auguri Mattia cari amici popolari grazie un applauso grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.